Ani fa in questo luogo si compiva una strage grave che avrebbe cambiato il voto dell'Italia sul piano politico e sociale. Oggi in sede istituzionale, in sede comunale, i tre sindaci delle città martiri di questi attentati, Milano con il suo sindaco Giuliano Pisapia, Bologna con il suo sindaco Silvia Giannini, Brescia con il suo sindaco Emilio del Buono hanno voluto ricordare questa giornata. Ha avuto un significato particolare questa presenza perché infatti questa è una giornata per Milano ma anche per l'Italia particolare, dove le istituzioni e i corpi sociali, in particolar modo il sindacato. La CGL Cislewil che in quel lontano 69 al giorno dei funerali proclamò lo sciopero generale e tutti gli operai impiegati fossero presenza in Piazza Duomo in occasione dei funerali. A questo proposito ringrazio la presenza dei segretari generali di Milano, di CGL Cislewil, Gorda Galvagna e Margheritella e soprattutto la presenza della segretaria generale della CGL Susanna Camusso. Iniziamo quindi la nostra commemorazione dando la parola a Gardo Arnoldi, presidente dell'associazione Familiari Vittime di Piazza Fontana. Buonasera a tutti, grazie per essere qui insieme a noi per commemorare il 45esimo anniversario della tragia di Piazza Fontana. A nome delle associazioni familiari Piazza Fontana, 12 dicembre 69, forgo un sincero saluto a tutte le autorità presenti, ai sindacati e come sempre un sincero ringraziamento all'AMPI di Milano e al Comitato Antifascista, che anche quest'anno ci ha dato una mano determinante per l'organizzazione di questa manifestazione. Ringrazio anche il presidente della Camera, Laura Bordrini, per il messaggio che ci ha inviato, ma mi vuole dover riconoscere che da diversi anni in Piazza Fontana, il 12 dicembre, seppur invitati, non si è mai presentata nessuna carica dello Stato. Solo il nostro presidente Giorgio Napolitano, in occasione del 40esimo della strage, ha incontrato più altamente i familiari. Da allora solo un silenzio. Un ringraziamento va anche al Comune di Milano, nella persona del sindaco di Giuliano Giapia e del presidente del Consiglio Comunale Basilio Rizzo e tutto il Consiglio Comunale, che ha fortemente voluto ricordare il 45esimo anniversario della strage di Piazza Fontana, oggi pomeriggio, con un consiglio straordinario comunale aperto. Un sentito ringraziamento anche al sindaco di Brescia, Emilio Del Buono, e al vice sindaco di Bologna, Silvia Giannini, che sono presenti, per ricordare che la nostra città, insieme a Brescia e a Bologna, è stata certamente una delle più colpite in quegli anni di stragismo. 45 anni fa, era un venerdì come oggi, quando in Piazza Fontana, nel Salone della Banca Nazionale dell'agricoltura, durante lo svolgimento del mercato degli agricoltori, una bomba nazifascista uccideva avvilmente 17 lavoratori e ne feriva più di 8 anni. In un solo colpo ha cambiato la storia del nostro Paese. In tutti questi anni, pur dovendo scontare i tanti depistaggi, le vergognose coperture da parte dei servizi segreti, la drammatica morte di Giuseppe Pinelli e le assurde accuse a Pietro Valpreta, non abbiamo mai smesso un attimo di cercare la verità e i responsabili. Quando il 3 maggio del 2005, in Cassazione, si confermò la soluzione di Zordi e Maggi e nel processo fatto sull'indagine del giudice Sarfini, per un attimo noi dell'Associazione ci siamo sentiti sconfitti e anche vergognosamente umiliati, perché pensavamo che fosse la fine della ricerca della verità. Per fortuna non fu così, poiché la sentenza confermava l'impianto dell'indagine, e cioè il ruolo operativo di ordine nuovo di Padova e la partecipazione di Franco Freddo e Giovanni Ventura e la colpevolezza di Giglio, riconoscendo le responsabilità dell'estrema destra veneta. Ma sia il Freddo che il Ventura non potevano essere condannati in quanto assolti precedentemente per due volte. Per la strage di Piazza della Loggia, davanti da Corte d'Assisi di Brescia, è stato confermato anche in quel caso il ruolo operativo del gruppo Veneto di Ordine Nuovo, capitanato da Carlo Maria Maggi, confermando quindi che un gruppo ristretto di poche persone, non più punibili, sono riconosciuti per la strage, per le due strage. Il nuovo processo d'appello per la strage di Brescia, che si dovrà tenere a Milano, potrebbe dare finalmente un nome e un volto a quella persona che coordinò quella strage e quel nome e quel volto è ancora quello di Carlo Maria Maggi, già condannato e infine assolto per insufficienza di prove per la strage di Cazza Fontana. Se veramente si arrivasse a questa soluzione, che noi come associazione, ma anche la Casa della Moggia di Brescia si auspica, si potrebbe avere la possibilità di una riapertura delle indagini per identificare altri possibili autori della strage del 12 dicembre 69. Insieme al nostro avvocato Federico Sinicato ci abbiamo già provato due anni fa, ma la magistratura milanese non ha ritenuto che gli alimenti nuovi che avevamo portato fossero sufficienti per riaprire una nuova istruttoria. Oggi, rispetto a tanti anni fa, abbiamo accumulato molti conoscendi sul terrorismo nero di quegli anni e trovato anche alcuni colpevoli. Ma per arrivare a una verità definitiva e dare giustizia alle vittime e anche al popolo italiano tutto, bisogna fare ancora tanto. E noi, incoraggiati anche dalle parole del nostro Presidente Giorgio Napolitano, che nel quarantesimo della strage ci ha spronato a cercare la verità con tutte le nostre forze, non ci fermiamo, non mogliamo, anche se siamo rimasti in pochi. La nostra missione è questa, di cercare la verità fino in fondo. Come associazione, lo scorso 4 dicembre, insieme all'Archivio di Stato di Milano e grazie alla collaborazione della Casa della Memoria di Brescia e della Rete degli Acridi, per non dimenticare, nelle persone importanti di Ilaria Moroni e di Benedetta Tobagi, abbiamo messo in rete tutti i processi fatti sulle strage di Piazza Fontana. Questo è un modo per dare l'opportunità a tutti di poter accedere liberamente agli atti processuali riguardanti la strage. Voglio ricordare, ed è molto importante, che tutta la digitalizzazione di tanti processi è stata fatta per la maggior parte nelle carceri di Cremona e Padova e da tanti altri carcerati, che con un lavoro immenso e certosino hanno riportato tutto il materiale cartaceo su Citi. Crediamo che questo primo passo, insieme alla decodificazione degli atti segretati, potrebbe aiutarci ad avere risultati significativi, certi però che la ricerca di documenti ancora sconosciuti debba essere coordinata e governata da un nucleo di persone espressamente preparate e a conoscenza di questo materiale. La nostra associazione ha colto la direttiva Renzi di apertura degli archivi sulle strage come un atto politico di doverosa trasparenza, che nel suo intento vuole saldare il suo debito di omertà, omissioni e depistaggi con la nostra storia, ma in realtà è osteggiato da quegli apparati che vogliono ridimensionare il valore stesso della direttiva, operano per svuotarlo del suo nobile significato, depositando documentazioni disordinate, confuse e marginali, come ha fatto il Ministero degli Esteri e della difesa. Praticamente ci stanno consegnando dei pacchi vuoti e senza senso. Come associazione quindi chiediamo alle forze politiche e alle istituzioni di creare un'apposita autorità inquirente in cui concentrare un ristretto numero di investigatori e magistrati e soprattutto di coinvolgere l'università italiana con i tanti giovani ricercatori che possano non far disperdere l'ormai immensa amore di atti che i tanti processi hanno creato. Questo avrebbe un unico significato, non mandare perso quel patrimonio di conoscenze e dare ancora più capacità di lettura di tutti quei fatti accaduti ormai tanti anni fa. Noi come associazione non ce la sentiamo di dire di vivere in un paese democratico e maturo. Se tutti insieme non avremmo affrontato e risolto finalmente tutti i misteri e i tanti fantasmi che avvolgono la nostra storia e soprattutto cercare di evitare lo scandalo della rimozione di quei fatti storici come se non fossero mai accaduti. Questo o mai lo chiediamo noi per i nostri morti innocenti ormai morti da 45 anni. Ora, come tutti gli anniversari, voglio ricordare i nomi dei nostri morti che hanno avuto la colpa di trovarsi nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Per l'opinione pubblica rimangono un numero, 17, un freddo numero su quella lapide e non si ricorda che dietro quei nomi sconosciuti c'erano degli uomini con famiglie, con dei figli, con dei valori che quella bomba ha portato via per sempre, lasciando noi familiari soli a lottare per non farli dimenticare. I loro nomi sono Giovanni Arnoldi, Giulio China, Eugenio Corsini, Pietro Dendena, Carlo Gaiani, Galogero Galatiotto, Carlo Garavaglia, Paolo Gerni, Luigi Meloni, Vittorio Mocchi, Gerolomo Papetti, Mario Pasi, Carlo Perego, Oreste Sangalli, Angelo Scaglia, Carlo Silva, Attilio Valè Ed infine, ma non certo per ultimo, Giuseppe Pinelli.